Continuato ad andare incontro ai giovani marginati, un impegno che richiede coraggio, maturità umana e molta preghiera. Lo ha chiesto Papa Francesco alla congregazione salesiana, nel discorso rivolto al termine del capitolo generale che ha eletto lo spagnolo Angel Fernandez Sartime alla carica di rettore maggiore. Papa Francesco ha sottolineato la validità del sistema preventivo ideato da Don Bosco. Ai religiosi ha chiesto una vita essenziale austera, vicinanza ai poveri, trasparenza e responsabilità nella gestione dei beni. Il Papa ha notato poi che la cura delle vocazioni richiede attenzioni specifiche, anzitutto la preghiera, poi attività proprie, percorsi personalizzati, il coraggio della proposta, l'accompagnamento e il coinvolgimento delle famiglie. La geografia vocazionale è cambiata, ha detto, e sta cambiando. E questo significa nuove esigenze per la formazione, l'accompagnamento e il discernimento, possibili attraverso una sana dimensione di vita comunitaria. Grazie. Grazie.